Nel 1977 il telescopio Big Ear o Grande Orecchio dell'Università dell'Ohio captò uno dei segnali più famosi della storia dell'astronomia e della cosmologia il famoso segnale WOW perché lo scienziato che si occupava dei rilevamenti, Jerry Eman quando lo vide segnato sui tabulati lo cerchiò in rosso e ci scrisse di fianco la parola WOW per tantissimo tempo si è dibattuto su cosa potesse essere questo segnale cosa avesse generato questo segnale così strano alcune persone hanno addirittura pensato che potesse essere un segnale artificiale quindi proveniente da una civiltà extraterrestre intelligente ipotesi che fino a questo momento era tutt'altro che da escludere oggi però dopo quasi 50 anni potremmo aver trovato una risposta potremmo aver spiegato che cos'era il segnale WOW ma prima di dirvelo cerchiamo di capire insieme cosa è successo e perché non si è riusciti a capire per così tanto tempo che cosa fosse l'origine di questo segnale ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono Victor il vostro ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico prima di cominciare questo video e di addentrarci dentro alla storia del segnale WOW ho un paio di annunci da fare il primo annuncio è che abbiamo attivato gli abbonamenti al canale cosa significa? Che potrete abbonarvi al canale e avere alcuni privilegi primo avrete accesso a spoiler di nuovi video e nuovi progetti in anticipo rispetto agli altri secondo avrete il vostro badge da abbonato e quindi potrete far vedere a tutti che siete i maggiori contribuenti a questo canale terzo avrete una corsia preferenziale per le risposte ai commenti cosa significa? Che qualora doveste lasciare un commento sotto un mio video avrete la priorità e quindi sicuramente riceverete risposta cosa che ovviamente non posso garantire a tutti numero 4 verrete ringraziati direttamente all'interno dei miei video nei titoli di coda e durante le live abbonarsi costa davvero poco è una cifra simbolica per quelli di voi che sono interessati e vogliono aiutarmi a sostenere il mio progetto di divulgazione possono abbonarsi semplicemente cliccando sul tasto di fianco al mio nome qua sotto quello di fianco al tasto iscriviti per intenderci e ovviamente ringrazio già in anticipo tutti quelli che lo faranno secondo annuncio ci vediamo con Seds Italy a Novara il 12 di ottobre e poi ad Alessandria il 23 di novembre ci vedremo poi dal 14 al 18 di ottobre all'International Astronautical Congress di Milano allo IAC 2024 quindi per tutti quelli che parteciperanno ci vedremo lì altra cosa ragazzi io ho anche la pagina Instagram dove metto aggiornamenti quotidiani insomma dove abbiamo un contatto più diretto quotidianamente quindi se non volete perdervi proprio tutti gli aggiornamenti andate lì e ovviamente se volete entrare nel mio canale Telegram segreto trovate il link in descrizione e lì proprio possiamo parlare di qualsiasi cosa e ovviamente pubblico anche un sacco di cose che non vengono pubblicate su Instagram e gli altri canali comprese notizie in anticipo su progetti e video che devono uscire fatti gli annunci andiamo direttamente all'interno del video nel 1977 il telescopio Big Ear dell'Università dell'Ohio rileva un segnale strano il radiotelescopio Big Ear non era un telescopio parabolico ovvero quelli classici a cui siamo abituati a forma di parabola che possono orientarsi e puntare regioni specifiche del cielo no, questo telescopio era strutturato in maniera diversa era strutturato in modo tale da poter essere orientato verso l'alto o verso il basso rispetto al cielo ma non poteva essere ruotato a destra o sinistra quindi una volta fissata un'altezza rispetto all'orizzonte bisognava attendere che la Terra ruotasse per osservare diverse porzioni di cielo quindi il movimento orizzontale del radiotelescopio era dovuto semplicemente alla rotazione del pianeta questo radiotelescopio era formato da due antenne separate distanti l'una dall'altra circa un metro e mezzo quindi la porzione di cielo osservata da una veniva osservata anche dall'altra dopo pochi minuti a causa della rotazione del pianeta un'altra cosa fondamentale da capire che ci tornerà utile è la banda di frequenza all'interno della quale operava il Big Ear si tratta di una banda intorno ai 1400 MHz che per farci capire corrisponde alla linea 21 dell'atomo di idrogeno questa frequenza viene utilizzata per captare appunto l'idrogeno nello spazio ma non solo perché alcune persone ritengono che questa frequenza potrebbe essere utilizzata da civiltà extraterrestri per comunicare per quale motivo? beh è molto semplice perché l'idrogeno è l'elemento più comune all'interno dell'universo per quanto ne sappiamo perlomeno e quindi si presuppone che una civiltà intelligente ne conosca la natura e sicuramente le caratteristiche quindi non è improbabile che una civiltà extraterrestre intelligente possa utilizzare questa frequenza all'interno delle sue comunicazioni prima di continuare però ragazzi questo è il momento perfetto per lasciare un bel like a questo video perché i like sono importantissimi per far capire a YouTube quando un video è interessante oppure no quindi ci vuole davvero un secondo per me è super importante ah un'altra cosa se non siete ancora iscritti al canale ovviamente fatelo perché tanti di voi guardano sempre i video ma non sono iscritti e anche l'iscrizione per me è davvero molto molto importante ora che abbiamo visto un po' le caratteristiche di questo radiotelescopio andiamo un attimo a vedere i dati del segnale e cerchiamo di capire insieme come leggerli e soprattutto che cosa significano nella parte di tabulato evidenziato da Eman vediamo una serie di lettere ebbene questa serie di lettere rappresenta proprio il segnale WOW alcune persone hanno speculato nel corso del tempo su queste lettere dicendo che si tratterebbe di un segnale cifrato inviato da una civiltà extraterrestre ovviamente le cose non stanno così questi numeri e queste lettere hanno un significato ben preciso all'interno di questi tabulati ogni lettera o numero corrisponde all'osservazione di una porzione di cielo che dura circa 12 secondi e sono scritte dall'alto verso il basso quindi in pratica i numeri letti in colonna corrispondono all'osservazione del cielo col passare del tempo visto che nel frattempo la terra sta ruotando vediamo però all'interno dei tabulati che abbiamo anche colonne diverse ebbene queste colonne corrispondono alle diverse frequenze attraverso le quali si sta osservando quella porzione di cielo se ci mettiamo su una riga quindi se leggiamo da sinistra verso destra stiamo osservando lo stesso punto di cielo nello stesso momento ma a frequenze diverse cosa indicano tutti questi numeri che vediamo nel tabulato? cosa indicano queste cifre? beh è molto semplice indicano l'intensità del segnale rispetto al rumore di fondo ovvero quel rumore che esiste di base esiste a prescindere anche quando non vengono rilevate delle sorgenti radio nel caso di assenza di sorgenti quindi nel caso solamente di rumore di fondo sul tabulato viene lasciato uno spazio bianco se abbiamo il numero 1 significa che il segnale rilevato è esattamente uguale in intensità rispetto al rumore di fondo se abbiamo il numero 2 significa che il segnale rilevato è di intensità doppia rispetto al rumore di fondo 3 è 3 volte tanto 4 è 4 volte tanto e così via e così via una volta arrivati al numero 9 non abbiamo più cifre quindi procediamo con l'alfabeto questo significa che la lettera A corrisponde a un segnale che è 10 volte più intenso rispetto al rumore di fondo B è 11 volte più intenso e così via se osserviamo il tabulato troviamo una grande quantità di numeri 1 ogni tanto troviamo dei numeri 2 e molto più raramente troviamo dei 4, dei 5 o addirittura superiori tant'è vero che se troviamo dei 6, dei 7 o numeri di questo tipo vengono cerchiati all'interno del tabulato perché sono delle osservazioni significative e molto più rare rispetto alla norma ebbene se andiamo a guardare il segnale wow è decisamente fuori dal normale inizia subito 6 volte più intenso del rumore di fondo e nel punto di massima intensità il segnale è 30 volte più intenso del normale tutto il segnale dura 72 secondi ed è un segnale che proprio cresce, raggiunge un picco e poi decresce grazie a tutti grazie a tutti la cosa strana però è che questo segnale non si riflette poi su tutte le altre frequenze del nostro tabulato ma rimane concentrato ad una banda precisa ebbene questo è molto strano perché di solito i fenomeni a banda stretta sono caratteristici dei segnali artificiali e non di quelli naturali come per esempio l'esplosione di una supernova per farci capire insomma per come era strutturato il segnale wow è sicuramente un segnale a intensità costante che ruota insieme al cielo e quindi non può essere un satellite, non può essere un aereo, non può essere qualcosa che comunque gira attorno alla terra ma deve essere qualcosa di necessariamente molto lontano dal nostro pianeta e che ha diverse caratteristiche strane che ci portano a pensare che potrebbe essere un segnale artificiale non ultimo il fatto che solamente una delle due antenne di Big Gear ha rilevato il segnale questo significa che nel passaggio da un'antenna all'altra questo segnale si è spento tra l'altro questa cosa non ci aiuta perché per come è impostato lo strumento non è possibile capire quale delle due antenne abbia rilevato il segnale e quale invece no e questo genera un'ambiguità soprattutto se dobbiamo andare a cercare di capire da quale porzione di cielo è arrivato questo segnale questo è stato un problema per parecchio tempo ovvero identificare la zona di cielo della provenienza del segnale oltre a questo una volta che si è capito da quale zona del cielo potesse provenire questo segnale wow comunque non si è trovata alcuna corrispondenza con sorgenti di onde radio note quindi cosa potrebbe essere questo segnale wow potrebbe davvero essere di fatto un segnale extraterrestre beh non possiamo escluderlo a priori certo è molto strano e ci sono molte domande innanzitutto perché una civiltà extraterrestre dovrebbe mandare un singolo segnale un impulso che poi non si ripete mai più perché questo segnale non è più stato rilevato nel corso degli anni osservando quelle porzioni di cielo alcune persone hanno ipotizzato che questo segnale si ripete a cadenza regolare come se fosse un impulso o un segnale tipo un faro però tenendo anche questa ipotesi in considerazione sicuramente avremmo dovuto almeno rilevarlo un'altra volta nel corso di questi quasi 50 anni potrebbe essere che questa civiltà stia sparando segnali randomicamente in direzioni diverse nello spazio per cercare di vedere chi cattura questo segnale sì potrebbe essere però anche in questo caso che senso ha a mandare un segnale di questo tipo un segnale estremamente criptico che sarebbe di difficile interpretazione e che potrebbe avere diverse spiegazioni oltre alla presenza di altre civiltà senza contare il fatto che mandare segnali casuali non garantisce nulla perché se anche nella traiettoria ci fossero delle civiltà potrebbero perdersi il segnale potrebbero non riuscire a captarlo o confonderlo con qualcos'altro quindi di base anche questo approccio non avrebbe molto senso insomma è tutto molto strano non sappiamo dare una risposta di origine naturale e le risposte di origine artificiale sì sono plausibili ma non ci convincono tanto questo problema va avanti per diversi decenni e non si riesce a trovare una risposta a cosa sia il segnale wow e la risposta fino a poco tempo fa era onestamente non lo sappiamo non sappiamo cosa fosse il segnale wow e questo ci sta la scienza funziona così non sempre ha le risposte pronte da dare a qualsiasi fenomeno e piuttosto che avventurarsi in voli pindarici e spiegazioni fantascientifiche è meglio fermarsi un attimo stare in silenzio continuare a studiare il fenomeno e continuare a fare ipotesi fin quando non si trova la soluzione corretta e sembra proprio che la soluzione corretta sia arrivata proprio oggi dopo quasi 50 anni un nuovo studio condotto dall'università di Porto Rico potrebbe aver trovato la soluzione definitiva gli scienziati hanno effettuato delle osservazioni nell'intervallo fra l'1 e i 10 gigahertz concentrandosi però nella fascia dei 1420 megahertz ovvero la zona di frequenza in cui operava Big Gear rispetto al 1977 abbiamo diversi vantaggi una maggiore sensibilità una maggiore risoluzione temporale e la capacità di polarizzazione dei segnali quindi tramite queste osservazioni con i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione abbiamo trovato una spiegazione molto più plausibile rispetto a quella degli extraterrestri secondo gli astrofisici quello rilevato da Big Gear sarebbe un fenomeno astrofisico estremamente raro ma comunque possibile si tratta dell'emissione stimolata della riga dell'idrogeno provocata da un intenso rilascio di radiazione transitoria che cosa significa in parole semplici? beh immaginiamo di avere una nube di idrogeno fra la terra e una sorgente di forte radiazione se questa sorgente emettesse radiazioni con grande intensità queste radiazioni andrebbero a impattare contro questa nube di idrogeno quindi l'energia proveniente dalla fonte di radiazioni andrebbe a stimolare il rilascio di idrogeno che dal punto di vista della terra risulta in un aumento di luminosità momentanea capite benissimo che avere una sorgente che emette radiazioni e una nube di idrogeno che si trovi esattamente in mezzo fra questa sorgente e la terra è un fenomeno estremamente raro ma darebbe a tutti gli effetti una spiegazione al fenomeno rilevato dal segnale WOW non solo ma la nuova ricerca condotta dal team di Arecibo ha rilevato dei segnali molto simili al segnale WOW grazie alle sue osservazioni questi segnali però sarebbero molto meno intensi rispetto al segnale WOW e proverrebbero da zone di spazio diverse ciò nonostante fra il febbraio e il maggio del 2020 abbiamo rilevato diversi fenomeni di questo tipo il che ci lascia presupporre che appunto si possano formare ma quali sarebbero queste zone di radiazione transitoria che danno origine a questo fenomeno? beh non lo sappiamo con certezza ma abbiamo due ipotesi la prima ipotesi è l'esplosione delle magnetar ovvero delle stelle di neutroni che hanno un campo magnetico molto molto intenso la seconda ipotesi sono i ripetitori gamma soft chiamati anche SGR che altro non sono che oggetti astronomici che emettono brevi ma intense esplosioni di raggi gamma e raggi X a intervalli regolari quindi di base secondo gli astrofisici il segnale WOW sarebbe stato generato dall'allineamento di una di queste sorgenti di radiazione con una nube di idrogeno e la Terra questo allineamento A3 spiegherebbe tutte le caratteristiche del segnale WOW la sua intensità, la sua brevità e soprattutto la sua rarità l'allineamento preciso infatti di queste tre componenti è estremamente raro il che spiega perfettamente il motivo per il quale non si è più osservato un fenomeno simile a livello di intensità che possa ricondursi allo stesso segnale WOW con tutta probabilità si tratta di qualcosa di unico che difficilmente si ripeterà o che perlomeno noi difficilmente riusciremmo a rilevare di nuovo ma che comunque sembra proprio avere una spiegazione razionale scientifica e quindi per il momento possiamo accantonare l'ipotesi extraterrestri queste nuove scoperte ci fanno capire che c'è ancora un sacco da scoprire un sacco di fenomeni strani da analizzare nel nostro universo e che spesso e volentieri ci piace saltare a delle conclusioni fantascientifiche perché sono quelle più affascinanti quando in realtà dietro a fenomeni bizzarri c'è molto probabilmente un fenomeno astrofisico, astronomico molto raro che ancora non abbiamo osservato ma che ha perfettamente una spiegazione in effetti mi vuole dire che questa spiegazione del segnale WOW è estremamente noiosa purtroppo per noi ma per grande gioia degli astrofisici bene ragazzi questo video termina qui spero ovviamente che vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare chiarezza sul segnale WOW e anche su qualcosa riguardo al funzionamento dei radiotelescopi e che soprattutto vi abbia fatto capire come sia complesso alle volte osservare il nostro cielo ovviamente ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ovviamente di lasciare un bel like a questo video ah e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti per oggi è tutto qua è Victor passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video ciao ciao